Una fiera dedicata agli amici a quattro zampe con occasioni e iniziative per immergersi con il proprio animale da compagnia in un mondo di formazione, sport, bellezza, adozioni, shopping e intrattenimento educativo. Torna all'ingotto fiere di Torino dal 18 al 19 novembre, quattro zampe in fiera. Appuntamento che coinvolge a 360 gradi aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, esperti di igiene, associazioni benefiche. Quest'anno l'iniziativa vestirà il padiglione 1 dell'ingotto fiere delle magiche atmosfere del Natale, proponendo a cani, gatti e i loro amici umani occasioni per consolidare i legami di affetto e fiducia. Al centro della Due Giorni le attività sportive. Si parte con il lancio del disco, attività a tutta energia per mantenere i nostri fedeli amici in forma. Per i cani che vogliono esercitare la mente, saranno proposte attività di problem solving e giochi di fiuto. Sempre molto amata dai cani e dai loro padroni, la mobility, una disciplina sportiva che coinvolge attrezzature speciali come salti, superficie ondulate, altalene, passerelle e addirittura oggetti della vita quotidiana come pneumatici e scale per creare un percorso interattivo composto da circa 20 ostacoli affrontati in compagnia del nostro fedele amico a quattro zampe. Per gli animali di piccola taglia, la tana ludica, attività ricreativa ed educativa pensata per meticci e cani di razza, con particolari predisposizioni genetiche alla caccia. E poi percorsi fatti per favorire la collaborazione tra animale e proprietario, giochi di squadra per tutti i cani e sfide di dog agility. Per coloro che stanno pensando di introdurre un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, Quattro Zampe in Fiera offre la possibilità di mettersi in contatto con numerose associazioni e allevatori di animali di razza per ricevere informazioni e preziosi consigli.